Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano e il Bivio per la variante di Valico. Fare attenzione per nebbia a banchi segnalata nel tratto appenninico tra Roncobilaccio e Aglio. Sulla A11 a causa di un guasto all'impianto l'area di servizio di Peretola Nord in direzione Pisa è sprovvista di GPL. Sulla FIPILI per lavori restringimento di carreggiata tra km 51 e 100 e km 51 e 900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest in direzione Mare. Sulla regionale 429 di Valdelsa senso unico alternato all'altezza del km 56 fino al 13 dicembre. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!